Buongiorno, grazie, troppo buoni. Allora, oggi vi parlerò dei serious game, che è uno simoro che sembra minaccioso, ma poi vi dimostrerò che è una cosa molto carina, e di come possono essere, come ha detto, dei vari strumenti per il marketing. Prima di fare questo però, devo necessariamente dirvi chi sono e qual è l'impresa per la quale lavoro. Allora, io lavoro per NetPress, NetPress è un'impresa che ha due anime, l'IT, l'Information Technology, e la comunicazione. Sposando queste due anime viene fuori quasi tutto quello che facciamo, ci occupiamo di informazione, abbiamo un giornale online che si chiama Sardegna Oggi, forse qualcuno lo conosce, ci occupiamo di comunicazione in senso più largo, nel senso che forniamo servizi ad imprese e denti pubblici, ci occupiamo di grafica ed audiovisivo, nel senso che realizziamo cartoni animati soprattutto per il web, e soprattutto, il motivo per cui sono qui oggi, ci occupiamo di giochi, realizziamo videogiochi. Negli anni abbiamo realizzato tantissimi giochi di tipo educativo, i famosi edutainment, soprattutto per l'insegnamento delle lingue con la metodologia dell'inversione linguistica. Ultimamente, negli ultimi mesi, abbiamo anche iniziato una scuola di creazione di videogame dedicata a ragazzi ed adulti. Io sono Andrea Sorgia, non Sorgia, sono Andrea Sorgia, e qui in basso si legge poco, per fortuna, vedete dove mi hanno portato i miei studi ultimamente sul game design. Veniamo dunque, il marketing turistico fatto con i serious game. Beh, innanzitutto dobbiamo scoprire che cosa sono questi famosi serious game. Partiamo da una differenza, una parola che sicuramente tutti quanti avete già sentito pronunciare, gamification. Ne parlerà molto meglio di me, difatti io non ne parlerò affatto, il professor Vagliassindi dopo di me, io mi limito a dire che i giochi non sono gamification, o meglio la gamification non è gioco. La gamification è la pratica di applicare meccaniche tipiche del gioco a quello che gioco non è. Ad esempio la raccolta punti, i colori delle cinture nelle arti marziali o la coppa delle case di Hogwarts nella serie di Harry Potter, sono tutti esempi di gamification. Il gioco invece, cos'è il gioco? Allora, vi voglio tranquillizzare, io non sono un accademico, quando si cominciano a vedere foto in bianco e nero di vecchi professori qualcuno sgrana gli occhi, però ho imparato nel tempo che è necessario catalogare l'oggetto del nostro lavoro per poterlo svolgere al meglio. Allora, John Oitzinger, sono riuscito a pronunciarlo, è un antropologo che nel 1938 ha scritto un trattato che si chiama Homo Ludens, nel quale dà una definizione del gioco molto efficace al punto che viene utilizzata nel game design tutte le volte che dobbiamo uscire da questo impiccio di definire che cos'è il gioco. Per Oitzinger il gioco è un'attività libera, disinteressata, finita nel tempo e nello spazio, regolata da un insieme di regole che quindi vanno a creare un piccolo mondo perfetto all'interno del gioco, ma soprattutto, non so se si vede la regola numero 4, la caratteristica numero 4 è un'attività improduttiva. Il gioco non serve a niente, non deve servire a niente. Se il gioco ha un fine, vuol dire che è un lavoro, d'accordo? Ricordatevi questa caratteristica perché mi smentirò tra pochissimo. Ora, i serious game sono uno simbolo minacciosissimo, ma perché li hanno chiamati così? Oramai, questo è il termine comune in tutta la comunità internazionale, sono davvero seri, allora vuol dire che non sono divertenti? No, i serious game devono essere divertenti perché sono gioco, semplicemente sono dei giochi che hanno uno scopo. Beccato. Ma allora Oitzinger, se qui ci fosse il professor Oitzinger, si alzerebbe e griderebbe obiezione e io sarei costretto ad accoglierla. Perché i serious game hanno uno scopo? Perché servono, sono studiati anziché per divertire, oltre che per divertire, anche per raggiungere uno scopo. Quanto bene l'autore del gioco è capace di mascherare questo fine produttivo, tanto meglio riesce il serious game. Ora, vediamoli meglio questi serious game perché questo concetto del mascheramento del fine produttivo viene fuori più dagli esempi che dalla teoria. Allora, i serious game vengono utilizzati comunemente per queste tre caratteristiche, quella del marketing turistico possiamo nominarla la quarta categoria e ne parleremo diffusamente più avanti. Vengono utilizzati innanzitutto nel training, attraverso dei simulatori, nelle campagne di persuasione, soprattutto su tematiche sociali e infine il grosso dei serious game viene utilizzato nell'edutainment, cioè nella didattica. Si fanno giochi che servono ad insegnare. Vediamoli uno per uno, i serious game. Questi sono i famosi simulatori. Tecnicamente non sono dei giochi perché servono per insegnare al personale delle aziende a svolgere compiti complessi che sarebbe troppo costoso o rischioso o addirittura impossibile svolgere direttamente dal vivo. Pensiamo ad esempio, sulla destra abbiamo un esempio molto efficace. Quella è la cabina di un rimorchiatore, solo che non è un rimorchiatore vero. È una stanza in un palazzo. Quelle che vedete non sono finestre, sono schermi a led. Sui mobili che vedete al centro è stata riprodotta la plancia di un rimorchiatore. È stata realizzata da una società di Rotterdam e serve per istruire gli operatori dei rimorchiatori del porto a compiere determinate manovre. Ora, quanto sarebbe costoso e rischioso portare direttamente gli operatori sul porto a svolgere determinate attività? Molto. In più, con questo simulatore è possibile che gli istruttori inseriscano elementi di novità, emergenze, una nave ti taglia la strada, c'è un incendio, cose che sarebbe meglio non simulare. Non è detto poi che i simulatori assolvano completamente il compito dell'istruzione. Ovviamente c'è anche un affiancamento in mare, però un simulatore ci toglie dall'impiccio iniziale. Sulla sinistra invece vedete un altro esempio, ce l'abbiamo in casa, è stato realizzato da un'azienda di Cagliari, si chiama Simtec ed è presente qui a Sinnova. Simula un'installazione petrolifera. Il committente fa realizzare questa simulazione perché nei giorni precedenti, al dover spedire il proprio personale direttamente sul posto, questi possano imparare qual è la posizione degli alloggi, della sala mensa o dove è una determinata sala cinesca, insomma come funziona l'impianto prima di essere sull'impianto, con un relativo risparmio economico e anche di rischi alle persone e alle cose. Detto questo, io non mi sento di chiamare i simulatori questi giochi di training dei serious game, vengono chiamati così e quindi ve li ho citati perché in letteratura vengono classificati come serious game. Vediamo la seconda categoria, i giochi di persuasione. Questi giochi vengono scritti a supporto di campagne di sensibilizzazione soprattutto su tematiche sociali o ambientali. Ad esempio, From 5 to 4 è un gioco, scritto anche questo in Olanda, che serve a convincere le persone ad abbandonare l'utilizzo dell'automobile almeno un giorno alla settimana, appunto da 5 a 4, con un conseguente risparmio di CO2 e sull'ambiente. Sulla destra invece vedete il sito di Molle Industria. Molle Industria è uno studio di sviluppo di giochi con la testa in Italia, a Milano e a San Francisco, che fa dei giochi molto carini. Vi consiglio di andare a vedere il sito, sono gratuitamente giocabili direttamente sul browser. Perché vi li sto citando? Perché vi faccio un esempio prima di dirvi il perché. vedete la casellina gialla? Quello è un gioco che si chiama The Best Amendment ed è un gioco che tende a sensibilizzare i cittadini sul problema della proliferazione delle armi negli Stati Uniti. Il giocatore, in persona un inquietante personaggio con il cappuccio bianco, ogni riferimento al KKK è puramente intenzionale ovviamente, deve sparare a quelli col cappuccio nero. solo che durante le partite ci rendiamo conto che non serve sparare, è inutile. Ci saranno sempre più persone col cappuccio nero e quando noi al posto della pistola prenderemo il fucile avremo quelli col cappuccio nero che avranno il bazooka. Ok? Ora, vi ricordate che ho detto del fine improduttivo, Molle Industria scrive giochi in cui il contenuto arriva al giocatore, non attraverso il cosiddetto spiegone. Alla fine della partita piazzo una videata sullo schermo e spiego che negli Stati Uniti ogni anno vengono vendute due milioni e mezzo di armi sto inventando i numeri. No, è un'esperienza che ci arriva. Noi giocando questo gioco abbiamo la sensazione di quanto sia inutile detenere delle armi. Ci sarà sempre qualcuno con più armi di noi. Ok? Vediamo invece la terza macro categoria di serious game. Finora vi ho portato degli esempi positivi, però a volte è più facile parlare degli esempi negativi. Vi ho portato dei veri e propri titanic dell'edutainment. Stiamo parlando dei serious game che servono a educare, a insegnare. Le aziende che li hanno pubblicati sono dei colossi dell'intrattenimento videoludico e non sono fallite per questo, per cui ne parlo abbastanza serenamente. Sono anche abbastanza lontane dal tempo. Questo è Donkey Kong Junior Math, che riprende esattamente le meccaniche di gioco di Donkey Kong Junior, che era un gioco che quelli anzianotti come me ricorderanno, era un gioco che si trovava nei bar o ai giochi del poeto. È stato rovinato, non rovinato, scusate, non volevo dire rovinato. Sì, è stato rovinato. In questa versione il bambino, il malcapitato, deve compiere delle operazioni che gli vengono segnalate sulla parte superiore dello schermo. In questo caso, per completare il 13, devo prendere, devo arrampicarmi sugli eliane, prendere il numero 6, poi scendere, arrivare alla piattaforma dove c'è l'operatore matematico più e andare a prendere il 7. Il bambino sta facendo i compiti. Ed è bravissimo ad accorgersene. Qui il fine produttivo emerge chiaramente e questo al giocatore non piace. Non è piaciuto nemmeno la stampa specializzata, evidentemente, perché queste sono le reazioni alla pubblicazione del gioco quando è uscito. Troppo costoso anche se fosse gratis. Ma c'è chi è andato peggio. Circa 15 anni dopo, Siga, ha pubblicato un gioco di edutainment che doveva servire per insegnare agli utenti a familiarizzare con la tastiera. The typing of the dead, cioè datilografiamoli a morte. Allora vedete che il giocatore purtroppo non si vede benissimo. Ci sono degli zombie che sono molto alla moda e quindi un gioco con gli zombie non può andare male. Per uccidere questo signore sulla destra dobbiamo digitare enormous hair, effettivamente è un cappellone. Quello indietro è un po' più furbo invece perché si tiene un po' più in disparte. Dobbiamo digitare smart looking boy. Ovviamente il gioco ha avuto queste recensioni. PC World lo ha definito uno dei peggiori giochi della storia e Game Informer addirittura il più strambo di tutti i tempi. Ora vi faccio notare una cosa. Quando vogliamo che una persona anziana familiarizzi con l'utilizzo del computer imparando a utilizzare il mouse, cosa facciamo comunemente? Lo facciamo giocare al solitario. Il solitario non è un gioco che è stato pensato per imparare a utilizzare il mouse. È un gioco, è un gioco gioco. È molto utile anche per imparare a utilizzare il mouse. Se qualcuno della Sega avesse voluto, della Sega scusate, e avesse voluto creare un gioco per familiarizzare con il mouse, probabilmente avrebbe concepito una cosa di questo genere, fallendomi miseramente per la seconda volta. Perché succede questo? Perché spesso committenza e autori hanno l'impressione che se non fanno emergere il fine produttivo, lo scopo ultimo per cui è stato pensato il serious game, hanno l'impressione di non aver svolto appieno il proprio lavoro. E allora su, dai, facciamo una cosa in cui bisogna digitare a morte i nostri avversari. C'erano tantissimi altri modi per insegnare a utilizzare la tastiera. D'accordo? Questo per ribadire. Il gioco ha sempre una valenza educativa, anche e soprattutto se questa valenza è celata. D'accordo? Il giocatore possibilmente non dovrebbe accorgersi. O, se se ne accorge, lo spirito di avventura, il divertimento che lo spinge a giocare dovrebbe prevalere. D'accordo? Se si accorge di essere sfruttato, ovviamente perde quella interesse ad entrare nel cerchio magico. Ogni autore di gioco disegna un piccolo mondo nel quale l'autore non può fare tutto. Il giocatore prima o poi deve concedersi, lasciarsi andare ed entrare nel cerchio magico. Quello che viene chiamato il cerchio magico non è altro che il piccolo mondo definito dal gioco. Tutto quello che lo distrae e che lo riporta invece alla realtà è negativo. Quando si parla di cinematografia si parla di sospensioni, di incredulità. Qual è il motivo per cui pochi registi riescono a rompere la quarta parete, cioè fare in maniera che il personaggio guardi in camera? Perché riportano lo spettatore alla poltrona del cinema in cui è seduto. Si rende conto di stare assistendo a una proiezione e non di far parte della storia. Lo stesso meccanismo si instaura con i giochi. Non dobbiamo mai e poi mai far uscire i giocatori dal cerchio magico. Ora direi che su questo vi ho annoiato anche troppo, però se non siete ancora convinti che i giochi possono avere una valenza educativa, vi chiedo quanti di voi sanno dov'è la camciacca? Ok, io lo so. E sapete perché lo so? Perché ho giocato a risico. D'accordo? È un esempio banale. Non siete ancora soddisfatti? Quanti di voi sanno dov'è il Darfur? Probabilmente avete una sensibilità sociale molto più spiccata della mia. Io ho sentito tante volte parlare del Darfur, ma non sapevo dove fosse, me lo sono dovuto andare a cercare. È nel sud-ovest del Sudan. Forse bisognerebbe scrivere un gioco sul Darfur, vi svelo una cosa, è già stato fatto, andatelo a cercare, si chiama Darfur is dying, ed è un gioco di sensibilizzazione sociale. Ma veniamo veramente al motivo per cui sono stato chiamato a parlarvi di Sirius Gamer. Siamo una terra dalla forte vocazione turistica, possiamo utilizzare questo strumento come veicolo per il marketing turistico? La risposta è sì, è già stato fatto, lo facciamo, lo facciamo anche noi di Net Press, ma prima di parlarvi di quello che abbiamo fatto noi, vi faccio vedere questo. Questa è una scena di un gioco, non è un dipinto, si chiama Assassin's Creed, ed è un gioco famosissimo. Produrre un episodio di Assassin's Creed costa più che girare un film con Tom Cruise al giorno d'oggi, ma rende di più. D'accordo? Ora, il secondo episodio di Assassin's Creed è ambientato nella Firenze rinascimentale. Lo studio ha speso milioni di euro o di dollari per riprodurre fedelmente la Firenze del posto. Uno dei nostri collaboratori ha fatto un periodo in cui lavorava agli uffici di Firenze e ci racconta spesso, sapete che i telefoni hanno un sensore che capisce quanto è inclinato, bisogna prendere l'acqua nel pozzo e poi portare il telefono parallelamente al terreno con piccoli passi per non versare l'acqua fino al focolaio. Gli ultimi abitanti di Palmavera è un gioco di valorizzazione turistica che non ha lo spiegone, esattamente come i giochi di Mulla Industria e non ce l'ha nemmeno quelli di Discover Cagliari. Bisogna dare merito al comune di Alghero di non aver fatto quell'errore di cui ho parlato prima, cioè di voler assolutamente e necessariamente portare troppo in evidenza il fine produttivo del gioco, perché il gioco è gioco solo quando è improduttivo. Nel caso di Serious Game siamo costretti a mascherare questa realtà, perché altrimenti il giocatore non ci vuole giocare. Io ho terminato, se ci sono delle domande... ha messo di avere il tempo di fare... a posto. Grazie a tutti allora. Grazie. 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 Grazie a tutti.